chi è elena manuele di sanremo young 2018 condividi su facebook condividi su facebook elena manuele è una delle giovani protagoniste del nuovo talent musicale sanremo young presentato d'antonella clerici antonella clerici la nota conduttrice televisiva presenta sanremo young 2018 un talent per millenials con la per la musica tra i giovani protagonisti elena manuele una ragazza originaria di san gregorio di catania chi è elena manuele elena manuele ha 15 anni ed è originaria di san gregorio di catania la giovane nutre una grandissima per la danza oltre che per il canto infatti studia danza classica e moderna da quando aveva sei anni frequenta il secondo anno del liceo linguistico ed è molto determinata a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata nella puntata della semifinale di sanremo young si è esibita con marco masini cantando ci vorrebbe il mare uno dei più noti successi del cantautore italiano elena è una delle finaliste del talent show e nella puntata finale del 16 marzo 2018 si esibirà con tre brani sanremo young 2018 sanremo young 2018 è il talent dei millenials che vuole premiare la bellezza delle canzoni e ricerca cantanti tra i 15 e i 17 anni si tratta di un talent che va in onda il venerdì in prima serata e si articola in cinque puntate la prima puntata è andata in onda il 16 febbraio o il 23 febbraio il 9 14 e 16 marzo 2018 il programma televisivo è condotto dalla nota conduttrice antonella clerici la conduttrice aveva già presentato un talent che premiava il talento musicale di giovani cantanti il programma andato in onda dal 2008 al 2012 e poi nel 2014 e 2015 e ti lascio una canzone che ha reso famosi il gruppo di tenori dei volo formato da piero barone ignazio boschetto e gianluca ginobile che hanno duettato con grandi nomi della musica mondiale sanremo young è andato in onda pochi giorni dopo la fine della sessantotesima edizione del festival di sanremo condotto da claudio baglioni piero francesco favino e michelle unzicher sempre al teatro ariston i concorrenti concorrenti di sanremo young sono 12 alex epp bianca moccia elena manuele elonora pieri leonardo de andreas luna farina matteo marcos bock owiam rocco sharon raffaele renda sharon e zaira i giovani talenti musicali sono giudicati da varie giurie il pubblico che vota tramite televoto l'academy costituita da dieci esperti della storia del festival di sanremo presenti in teatro il giudizio di un ospite d'onore della serata il giudizio della sanremo young orchestra la finale di sanremo young andrà in onda il 16 marzo 2018 i finalisti sono raffaele renda leonardo de andreas luna farina ed elena manuele diritti d'autore riproduzione riservata 16. Grazie a tutti.